good morning si qui sono praticamente le diciamo le 11 e come dico in questi casi certo non proprio una mattina prestissima mattinata inoltrata ma comunque mattina mister master maestro o semplicemente semplicemente david si david david perchè no david david linch it's june 9 2022 and it's a tourstay in naples a middle morning at this moment more cloudy morning very still and now seventy three and four five and three twenty three celsius this means that it's that day really 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 soft like in this day in this video but not proprio così caldo perchè si è abbastanza di molto diciamo una decina di gradi a temperatura quindi fa leggermente più frido e fresco in realtà però comunque in generale fa diciamo sì sì un clima leggero diciamo a seri card video 2 salone fa due it battini che si fa due it iso è solo estese per i trondisi su iso con effetti intersi anyway asia and you all just see from the wind of this other mythical wind of i don't know if it's visible but i think that is after the temperature diciamo salome oggi non salirà io penso si manterrà questo livello ma vedremo vento insomma ne manchi su questo but the really important thing with this atmosphere negative point is that absolutely today we aren't going to be enjoying those beautiful blue skies and golden sunshine molto più nuvoloso si infatti e io l'ho già letto in questi che comunque in questi due tre giorni diciamo sarebbe stato così quindi così anzi credo tra poco pioverà pure ma comunque non ci possiamo lamentare che come sapete chi mi ha seguito fino a questo momento lo sa che abbiamo avuto praticamente quasi tutto maggio e questi giorni di giugno ovviamente lo spiutti quindi per me va bene così non ci possiamo lamentare speriamo a questo punto in un tempo migliore direttamente domani a domani anzi direttamente quando finirà questo ciclo detto dovrebbe durare due tre giorni ma vedremo poi sicuro che domani avremo una sorpresa e cambierà totalmente il tempo non lo so vedremo per cui he said this so from the southern mythical wind with the white curtain, pink flowers and grey roller shooter not visible and also most importantly from the mythical wind with the orange red blooming water curtain and this green roller shooter near me in these days and quasi tutta l'estate and finally from a mythical keeper di amadi gx 640 ipg 625 and also I hope you will have a great breakfast io certamente mi consolerò tra poco visto il tempo è brutto il mio stomaco brontola come sempre non so se lo sentite ma appunto soprattutto spero possiate consolarvi anche voi se il tempo dovesse essere brutto come qui ripeto non che non ci consideriamo sempre facciamo colazione anzi tra l'altro le due parole se dette in italiano consolazione e colazione fanno anche rima a curiosità a curiosità ma appunto come ho detto prima io quando faccio colazione mi sono solo ancora di più quando il tempo è brutto I'll see you in the video to see if I'll do it or tomorrow